Era il luglio 2019 quando queste immagini fecero il giro del web scatenando rabbia ed indignazione, schiaffi sulla testa o sul corpo, pizzicotti e frasi minacciose a bambini in tenerissima età, il tutto immortalato dalle telecamere nascoste, piazzate dai carabinieri dentro all'asilo nido, l'isola della fantasia a Montevarchi. Adesso la maestra, in realtà senza alcun titolo o diploma, accusata di maltrattamenti e esercizio abusivo della professione, ha patteggiato due anni con la condizionale di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo Giulia Soldi. Lo scandalo scoppiò appunto nel 2019 quando i carabinieri del Valdarno resero note le immagini e i dettagli dell'accurata indagine partita grazie alle denunce di alcuni genitori. Ad incastrare la 41enne che guidava l'asilo privato furono i video delle telecamere nascoste e installate dagli inquirenti. Gli accertamenti dei militari portarono poi a chiarire anche che la donna non aveva titoli di studio giusti ma in realtà possedeva solamente la licenza media. La 41enne fu così interdetta per un anno dall'esercizio della professione e l'asilo fu chiuso. Queste le uniche parole che la donna affidò al suo avvocato durante le udienze in tribunale. La signora è totalmente costernata, dispiaciuta e se ne fa una grossa colpa di quello che è successo. Adesso il patteggiamento leviterà il carcere e qualsiasi macchia sulla fedina penale. I genitori dei piccoli maltrattati potranno promuovere azioni civili per il risarcimento.